Il CEMAD è un grande centro clinico dedicato alla gastroenterologia dove si fa clinica ma anche ricerca e al CEMAD la ricerca è clinica e la clinica è ricerca allo stesso tempo. Abbiamo attivi oltre 100 trial di area clinica e oltre 20 trial di area endoscopica. I trial sono tutte le terapie nuove e non ancora in commercio e sono un'opportunità in più per i nostri pazienti sia per quelli che hanno già fallito tutte le terapie commerciali disponibili ma anche per chi vuole approcciarsi a terapie nuove perché magari tra quelle disponibili non ha ancora trovato quella che fa a pennello per lui e quella che fa a caso suo. Curarsi oggi al CEMAD vuol dire anche questo, vuol dire avere a disposizione tutte le alternative terapeutiche anche quelle così nuove che non sono ancora disponibili commercialmente e noi siamo qui per offrire queste opzioni terapeutiche e queste possibilità per cercare sempre la cura più personalizzata e la migliore possibile per ognuno dei pazienti che si rivolge a noi.